un saluto a tutti da Fondazione AERC per la ricerca sul cancro e benvenuti alla premiazione del contest dell'isola dei fumosi che è un'iniziativa di AERC nelle scuole che ci dà l'occasione per parlare di prevenzione e vi presento subito gli ospiti di oggi che sono Elena Munarini psicologa e psicoterapeuta lavora al centro antifumo dell'istituto nazionale dei tumori di Milano ben trovata Elena grazie buongiorno a tutti con noi Edoardo Mocini medico chirurgo specialista in scienze dell'alimentazione ben trovato Edoardo buongiorno e poi abbiamo Antonio Mistretta professore universitario medico dell'istituto superiore di sanità e consigliere AERC del comitato Sicilia ben trovato Antonio buongiorno ben trovati a tutti e saluto infine Marina Francaviglia Sorrentino che è consigliera del comitato AERC Sicilia buongiorno Marina buongiorno grazie allora brevemente vi racconto chi è fondazione AERC e cosa fa per le scuole innanzitutto diciamo che l'obiettivo di AERC è quello di rendere il cancro sempre più curabile come vedete in questa slide è nata ben nel 1965 e in tutti questi anni di lavoro ha raccolto oltre un miliardo e quattrocento milioni che sono stati investiti in progetti di ricerca dal 1965 oltre 70 milioni invece sono state investiti in borse di studio per i giovani ricercatori e in questi anni ovviamente i ricercatori sono riusciti ad ottenere anche tanti risultati e questa questi finanziamenti AERC li fa attraverso una serie di iniziative e mi piace ricordare che in questi giorni proprio c'è la zalea della ricerca vedete io la zalea della ricerca qui ce l'ha anche Marina vicino a sé nelle piazze italiane l'otto il nove maggio c'è la zalea della ricerca che serve al sostegno per la ricerca sui tumori femminili approfitto per dirvi che volete se volete saperne di più trovate tutto su la festa della mamma punto it torniamo invece all'altro obiettivo all'altra mission di fondazione AERC che è quella di fare divulgazione scientifica e di aiutare le persone a fare prevenzione anche attraverso tutta una serie di iniziative tra cui appunto quella della tutte le iniziative che sono previste per le scuole in questa slide ne vedete alcune ci sono i webinar per la formazione live con i ricercatori c'è una newsletter ci sono incontri di ricerca nella scuola ci sono varie iniziative per esempio cancro io ti boccio workshop e così via e poi c'è anche l'isola dei fumosi questo videogioco educational per dire no alla sigaretta ma su questo io voglio subito coinvolgere Antonio Mistretta perché è colui che l'ha ideato questo gioco questo contest Antonio a te la parola per raccontarci da dove ti è nata la tua idea grazie grazie mille Michela è un progetto a cui io sono particolarmente legato affezionato per la verità è una paternità doppia che mi lega a un mio carissimo amico infanzia più giovane di me che purtroppo non è più con noi Antonio Sorrentino col quale quest'idea è nata tanti pomeriggi fa è nata da una da una mia io sono igienista e mi occupo di prevenzione di educazione alla salute da tanto tempo mi ero reso conto che in Italia i supporti di didattica da utilizzare per la scuola erano sempre molto seriosi e io venendo da un'esperienza in Canada avevo visto che la didattica ludica cioè il gioco veniva molto utilizzato e allora avevo proposto alla nostra compianta presidente del Comitato Sicilia a donna Rabella Salviati che è stata una personalità eccezionale per il tutto l'air era una donna in là di età però con una mentalità giovanissima giovanissima che ha capito il senso di questi giochi di didattica e allora abbiamo fatto una prima esperienza che era quella del progetto mangioco dei giochi per l'alimentazione e poi io ho detto ma è il caso di fare una app perché è la cosa che più tutti hanno uno smartphone un telefonino un cellulare e da lì ho un computer e da lì è nata quest'idea di questo videogioco articolato in varie fasi di una stessa isola e Antonio Sorrentino con la sua creatività aveva impostato il videogioco che poi diciamo è andato è stato portato a termine da un team di esperti coinvolti da air grazie Antonio ecco avevo spento il microfono per non avere sovrapposizioni allora grazie Antonio per questa presentazione poi torneremo ovviamente fra un po' a parlare del di questo concorso adesso invece per noi è il momento di entrare un po' nella parte più scientifica e per perché questa è l'occasione appunto per parlare anche di prevenzione innanzitutto con Elena Munarini buongiorno Elena allora Elena affronterà il discorso del fumo i ragazzi che ci stanno seguendo sicuramente lo sanno perché tutti ormai sanno che il fumo fa male nonostante questo però molti giovani iniziano a fumare da giovanissimi quindi quello che ti chiedo anche nel tuo raccontare i rischi del fumo e così via anche di aiutarci a capire quali strategie dobbiamo mettere in atto per aiutare i giovani a non iniziare mai con questo vizio quindi ti lascio la parola e un'ultima cosa ragazzi e ragazze che ci state seguendo se avete domande specifiche per Elena potete già fin da adesso scriverle nella chat che trovate ovviamente nella vostra schermata cominciate pure a scriverle perché alla fine della presentazione di Elena ma anche di quella di Edoardo poi vi risponderemo e cercheremo di soddisfare tutte le vostre curiosità. A te la parola Elena. Bene grazie e sì Michela dici bene buona parte della mia presentazione sarà proprio finalizzata a capire come mai ancora tanti inizino a fumare e quali dinamiche ci sono dietro quindi alla tua domanda su come fare ad aiutare i ragazzi a non iniziare la prima risposta è permettere loro di conoscere che cos'è veramente eh il mondo del tabacco e delle multinazionali del tabacco eh di cui spesso si sa poco e poi anche i meccanismi proprio che della sigaretta la rendono così un gancio forte per cui noi sappiamo che chi inizia a fumare poi fumerà per buona parte della propria vita o anzi eh quasi tutta in me per molti. Cominciamo col dire che eh possiamo parlare di un'epidemia vera e propria perché si diffonde tra le persone si diffonde in un'età che è definibile pediatrica perché molto spesso è prima dei 18 anni si inizia a fumare e il veicolo eh di questa eh epidemia sono le pubblicità e le sponsorizzazioni. Eh i ragazzi che ci seguono sono sicuramente giovani ma gli insegnanti eh probabilmente si ricordano le pubblicità ai gran premi e alle tante manifestazioni sportive che sono vietate ormai dalla fine degli anni novanta ma eh oggi vi farò vedere come in realtà eh questo mondo appunto del tabacco e delle multinazionali si è attraversato da grandi menzogne e grandi strategie per girare eh le leggi che cercano appunto di eh se non altro mettere i consumatori in grado di rendersi conto di che cosa significhi fumare. Eh vi mostro questa foto storica eh che vi fa vedere quanto ehm quante appunto menzogne eh ci siano quanto grandi scusate ehm e non era diciamo l'inizio del secolo eh ma era il 1994 quando cinque top manager di cinque multinazionali del tabacco giuravano di fronte al senato americano che la nicotina non dava dipendenza e questo a fronte di appunto una serie di azioni tra cui la corruzione di medici e scienziati per poter affermare questo. Chiaramente mano a mano eh questa cosa è crollata e azioni legali soprattutto negli Stati Uniti hanno fatto sì che le multinazioni del tabacco fossero costrette a rendere pubbliche una serie di ricerche e di conoscenze che c'erano sui danni da fumo e sui meccanismi eh della dipendenza da nicotina che loro conoscevano bene ma che tenevano segrete e che sfruttavano in realtà per continuare ad alimentare il loro mercato. Un'altra grande bugia ormai storica però sicuramente che è durata molti anni è quella delle sigarette light. Eh appunto chi tra i vostri insegnanti ha fumato, conosceva chi fumava negli anni novanti e anche duemila eh ricorda le sigarette light, le Marlboro light che hanno avuto una grande diffusione. Ecco eh venuto fuori poi appunto ai primi primi anni duemila che già eh le multinazionali qui vedete una frase del del consulente medico della BAT che è la British American Tobacco dove si esplicitava come in realtà il meccanismo del low tar o delle very low tar quindi delle sigarette leggere portassero il fumatore ad aspirare più profondamente e anche ad aspirare più sigarette cosa che quindi aumentava la dipendenza aumentava il consumo di sigarette e anche ahimè come vedete in questo lavoro del British Medical Journal eh aumentava eh la mortalità rendendola quindi la sigaretta leggera non eh ridotto rischio ma più alto di altre e solo poco meno rischioso delle sigarette classiche che vedete sulla destra. Eh veniamo a oggi a questi anni. Eh queste che vedrete adesso sono delle delle immagini prese da un servizio del The Garden molto interessante che vi invito a cercare vedete anche la data e lo potete trovare su YouTube che mostra le dinamiche attuali delle compagnie del tabacco dove vediamo come eh se da un lato la consapevolezza dei danni da fumo ha portato vedete fino al 2016 eh a una riduzione per quanto graduale e non drastica del numero dei fumatori eh i guadagni aumentano e per farvi capire i guadagni delle multinazionali per farvi capire quanto eh ci fanno vedere qui parliamo di miliardi di dollari, il VN sta per miliardi di dollari, di che giro di soldi si tratta. Eh sei grandi multinazionali del tabacco guadagnano di più, hanno guadagnato di più, hanno avuto un fatturato maggiore nel 2015 rispetto a dei grandissimi colossi americani come Coca-Cola e McDonald che invece ne guadagnavano 55. E sempre con una grafica molto diciamo così eh esplicita e che colpisce ci fa vedere The Guardian come eh di tutti i fumatori eh una buona parte di questi morirà per le malattie anche per le malattie fumo correlate e questo porta quindi a una drastica riduzione dei consumatori eh pochi di questi però una quota smetterà eh che è un po' il lavoro appunto che faccio io al centro antifumo e quindi questo porterebbe a un calo appunto dei consumatori per cui a un calo del del guadagno che va continuamente rimpolpato con l'arruolamento di nuovi eh consumatori. Vediamo quindi come funziona oggi. Eh usiamo un'immagine del coronavirus per dire che la diffusione eh di questa epidemia eh per quello che riguarda il fumo eh oggi è soprattutto via internet nelle pieghe multisfaccettate dei vari social dove molto spesso i divieti e appunto la la legge non riesce ad arginare. Eh un altro sito che vi invito a visitare perché è molto bello e ricco di ehm di informazioni eh ve lo faccio vedere nella slide dopo e questo che vedete in basso a destra che si chiama Campaign for Tobacco Free Kids è un sito americano che eh lavora proprio mostrando eh il marketing che c'è verso i ragazzi più giovani. Questa è un'analisi di una campagna eh della appunto eh ma della compagnia della British American Tobacco ehm che si chiama Like Us, ok? Perché cosa sfruttano oggi le multinazionali? Le multinazionali? Gli influencer. Gli influencer sono queste figure non ve lo devo certo dire io eh che sui social si mostrano e come persone da un lato di successo da un altro però vicine a noi e che quindi ci viene voglia di imitare per poter appunto essere come loro. Questa campagna si chiama Like Us e nel sito sono riportate eh i contratti con cui eh appunto la BAT eh ha finanziato questi questi giovani con delle regole ben precise sono dei contratti veri e propri in cui viene richiesto di mostrare in una serie di foto e di post eh con dei con dei ritmi eh proprio definiti nel contratto per cui quante fotografie quante volte in un giorno come mostrarle ma anche come potete vedere eh l'hashtag da usare che in questo caso è like as appunto opportunamente camuffato da non usare da solo come vedete specificato sotto perché deve mascherarsi. Questo per farvi vedere come le pubblicità oggi puntino a non farsi vedere perché da un lato per non incorrere diciamo così magari in espliciti eh come dire in espliciti sanzioni ma anche perché la pubblicità che arriva in maniera inconsapevole cioè quando noi ascoltiamo un messaggio ma la nostra attenzione è rivolta ad altro e quel messaggio ci arriva senza che ce ne rendiamo conto questo fa sì che queste informazioni vengano assimilate senza accorgercene ed entrino un po' nella nostra diciamo modo implicito eh non consapevole e quindi sia più facile scivolare verso eh dove ci vogliono portare appunto questi eh questi venditori. Eh ve le faccio vedere li potete trovare scorro veloce vedete come fanno presa sugli aspetti no più belli eh della della vita dei giovani quindi l'espressione di sé, i viaggi, eh la musica, gli eventi musicali, eh i luoghi ma anche l'arte eh ricordo sempre il il salone del mobile di tre anni fa a Milano in cui la Philip Morris aveva fatto un'installazione grandiosa, artistica, bella con delle esperienze anche proprio eh personali assolutamente allettanti per promuovere eh il loro prodotto Aicos di cui poi vi accenno. Ecco ma una volta che si inizia che cos'è che tiene poi agganciati? Eh sicuramente c'è la nicotina che è questo alcaloide eh che si trova nel tabacco e che si lega ai recettori che noi già abbiamo che sono i recettori della cetilcolina che presiedono a una serie numerosissima di funzioni sia del sistema nervoso centrale che periferico nel nostro corpo. Quindi questa stimola eh la dopamina eh stimola il sistema di gratificazione quindi un sistema subcorticale come potete vedere da questa immagine e quindi difficilmente mediato dalla ragione. Ecco perché spesso il fumatore vive in questa sorta di conflitto che per chi non fuma è difficile da capire per cui si desidera smettere di fumare ma allo stesso tempo non ci si riesce proprio perché c'è un lavoro su un circuito che è quello del bisogno di un bisogno che non guarda non riesce a guardare alla ragione. In più eh sempre ad opera delle multinazionali del tabacco abbiamo che non paghi della sola nicotina ci sono una serie di prodotti additivi che vengono aggiunti e che per varie ragioni con varie diciamo modalità aumentano il legame con la sigaretta per cui troviamo i broncodilatatori eh che aiutano appunto a che il fumo vada più in profondità il mentolo e gli aromi che lo rendono più piacevoli eh l'ammoniaca e altre sostanze che aumentano eh la velocità dell'arrivo della nicotina al cervello i sedativi della tosse e anche i fori nel filtro perché la tirata sia più profonda. Tutto finalizzato a legare di più e a fare della sigaretta una vera droga. La nicotina stessa come potete vedere in questa eh tabella si dimostra essere una droga a tutti gli effetti. La prima nel dare dipendenza chiaramente l'ultima per tossicità ma non l'ultima nell'astinenza ad esempio che è solo secondaria all'alcol e alla cocaina e all'eroina scusate e ad è al pari della cocaina per cui non è facile smettere di fumare di questo noi ci rendiamo conto. Oggi poi abbiamo altri prodotti perché appunto le multinazionali per correre al riparo dalla perdita di consumatori eh legata appunto al fatto che le persone si sono sempre più rese conto del danno abbiamo avuto la nascita e la diffusione dei dispositivi elettronici per cui avete le sigarette a liquido che sono le seconde e quelle a tabacco riscaldato. Anche qui ehm poi vedremo eh prodotti che dovevano nascere col fine di tutelare diciamo così di migliorare di diminuire il danno e quindi migliorare la salute dei fumatori stanno diventando in realtà eh delle possibili eh porte e agganci per i più giovani proprio attraverso dei marketing che sono finalizzati a far conoscere le sigarette elettroniche soprattutto ai giovani. Ne abbiamo un po' studiate per capire se erano efficaci nella cessazione e se erano sicure per cui abbiamo fatto uno studio in cui si confrontavano i tre tipi di sigarette tradizionale elettronica e a tabacco riscaldato e alla fine dobbiamo trarre la conclusione che sicure non sono nessuna di queste anche le sigarette elettroniche dove comunque vedete valori moderati o bassi dove bassi significa comunque presenti di tutta una serie di sostanze di polveri sottili eh addirittura di aldeidi che possiamo essere sicuri eh che nuocciano alla salute. Ehm e la stessa cosa vale per le sigarette elettroniche tra i giovani. Questo studio di Pediatrics mostra come eh in chi eh non era non aveva intenzione di smettere di fumare l'utilizzo delle sigarette elettroniche abbia condotto invece eh con maggiore probabilità ad iniziare a fumare anche le sigarette tradizionali. In ultimo eh per dirvi quanto siano una scarsa soluzione le sigarette elettroniche si è visto che i giovani che consumano sigarette elettroniche hanno cinque volte un rischio aumentato di contrarre il covid addirittura chiusa sia normali che elettroniche un rischio di sette volte aumentate. Eh saputo tutto ciò capito tutto ciò è possibile dire di no oggi? Eh lo è eh ma non è facile come spesso non sono facili le cose più importanti e più fruttuose della vita per cui è possibile dire no eh scegliendo di non seguire diciamo così la via la via breve magari per affrontare un disagio che sia con gli altri o con noi stessi un momento doloroso come o difficile come succede di affrontarne eh alla vostra età no? Quando si devono affrontare molte sfide e la sigaretta si pone come una possibile scorciatoia e un aiuto facile ecco quindi l'invito è anche saputo tutto questo che c'è dietro a eh a non cadere in questa trappola ma appunto a prendere la strada un po' più lunga che vi darà assolutamente molto di più come possibilità di crescita. Eh se invece già fumate eh allora eh non c'è un motivo per non smettere sapendo che può non essere facile ehm nel senso che ehm smettere di fumare bisogna desiderarlo anche se fumate poco anche se magari fumate qualche sigaretta se provate a dire smetto da questa data non fumo più è probabile che dei momenti di sfida eh li li troverete e dovrete affrontarli e quindi essere forti e sopportare anche un po' la mancanza che per i primi periodi si può presentare. L'altra cosa su cui fare attenzione è eh eh organizzare la propria vita in modo da evitare le tentazioni per cui se sappiamo che ci sono cose che ci mettono in difficoltà chiaramente evitarle e non trovare scuse no? Quei ragionamenti che ci fanno alla fine ricadere che sono quelli è sabato sera o è una festa o solo stavolta perché domani ho il compito ma eh ci riportano in realtà a quello che noi non vogliamo per cui essere sempre molto consapevoli eh delle scelte che si stanno facendo. E infine se non riuscite esistono anche i centri antifumo e le possibilità di chiedere aiuto noi ne siamo uno ma ce ne sono in tutta Italia dove possono insegnarvi darvi una mano se per caso questa cosa la volete ma fate fatica a farla. Mi fermo eh grazie spero che facciate delle domande e e vi ringrazio per l'attenzione. E io invito tutti a fare domande grazie Elena per questo eh per questo quadro che hai disegnato partendo dal queste pubblicità mascherate no? Che ci ingannano che ci raggirano in un certo senso per poi per arrivare ai danni veri del fumo. Sappiamo che il fumo è la prima causa ehm di eh dello sviluppo di un tumore perché sappiamo che fumare porta non solo al tumore del polmone ma il rischio è molto elevato anche per tanti altri tumori ma è molto importante il messaggio che hai dato cioè si può smettere ci si può far aiutare e quindi se avete domande anche sulle strategie per smettere magari perché voi non fumate ma volete aiutare magari mamma e papà a smettere che ne so ecco Elena è qui a disposizione mandate la vostra domanda sulla chat. Grazie per il momento io passo a questo punto a Edoardo per affrontare invece un altro aspetto di prevenzione che è quello dell'alimentazione e di alimentazione anche qui è un grosso problema perché viviamo molto con le mode no? Eh ci sono le mode alimentari si mangia in un modo si mangia un po' l'altro anche qui eh ci sono tanti corsi di cucina tante informazioni insomma Edoardo devi aiutarci a fare un po' di chiarezza perché secondo me le idee se sono confuse su certe cose che riguardano il fumo lo sono ancora di più su alcune cose che riguardano l'alimentazione quindi ti lascio la parola e raccontaci un po' quanto è importante la sana alimentazione e soprattutto qualche consiglio di strategia per mangiare in modo sano prego. Grazie mille e grazie mille ad AIRC per l'invito e penso che i due argomenti abbiano molte cose in comune innanzitutto faccio i complimenti da dottoressa Munarini è stata una bellissima presentazione e penso che il fumo e l'alimentazione abbiano molto in comune innanzitutto perché molti dei messaggi appunto sbagliati che noi abbiamo eh derivano effettivamente dalla diet industry che forse non muove lo stesso giro di denaro ma poco ci manca e ehm e poi perché appunto sono connessi dei piani non solo organici eh come la dipendenza dalla nicotina eh ma anche psicologici sociali ed è quello di cui vorrei parlare e che adesso vorrei affrontare. Innanzitutto quando si parla di alimentazione c'è sempre la grande rincorsa a cercare di capire qual è la migliore dieta cioè qual è il modo migliore di mangiare quindi appunto ci sono di volta in volta queste mode che vengono riprese a volte anche con un fare pseudoscientifico eh che dovrebbero in qualche modo definire qual è il modo migliore di mangiare rispetto ad un altro. Se volessimo semplificare e cercare di dire ma qual è effettivamente la dieta migliore? Beh io direi che è la dieta che ci mantiene in salute e quindi dobbiamo fare un altro passo indietro e definire che cos'è la salute che non è un argomento banale tanto che si è espresso sull'argomento l'organizzazione mondiale della sanità eh definendo la salute come uno stato di completo benessere fisico mentale e sociale e non la mera assenza di patologia. Questo è un elemento fondamentale perché ci dice che eh quando pensiamo alla vita di una persona e alla salute di una persona non è semplicemente dagli esami del sangue o dalla presenza di un sintomo organico che possiamo definire la sua salute ma dobbiamo fare quella che viene definita come una valutazione olistica dove teniamo conto di tutti gli aspetti mentre invece sappiamo che la salute sociale psicologica mentale molto spesso viene trascurata e eh se quindi andiamo ad analizzare eh i tre aspetti dobbiamo considerare per la salute tutti e tre dei pilastri come le gambe di uno sgabbello in cui se ne manca una lo sgabbello cade e quindi viene meno il concetto di salute e di benessere per una persona. Facendo un passo indietro se dovessimo parlare di alimentazione ed è il motivo per cui esiste la specializzazione che è la mia specializzazione in scienza dell'alimentazione mentre non esiste la specializzazione in nutrizione è perché all'interno della parola alimentazione all'interno della branca dell'alimentazione è compresa la nutrizione che riguarda uno degli aspetti dell'alimentazione per cui se parliamo di alimentazione sana dobbiamo prima chiederci che cos'è l'alimentazione e quindi è tutto ciò che riguarda il mangiare ma noi di certo non mangiamo solamente per nutrirci mangiamo per tanti motivi quindi vi sono anche gli aspetti sociali sono gli aspetti culturali gli aspetti psicologici ve ne sono anche altri non potevo relencarli tutti ce ne sono tantissimi e poi ovviamente ci sono anche gli aspetti nutrizionali che sono ugualmente importanti che non possiamo certo dimenticare se parliamo di nutrizione andando a semplificare perché ovviamente in pochi minuti non è possibile diciamo parlare in maniera esaustiva dell'argomento potremmo però andando a semplificare individuare tre grandi obiettivi della nutrizione cioè della componente nutrizionale di quello che mangiamo dell'alimentazione i macronutrienti i micronutrienti e l'equilibrio calorico ora andando a vedere due di questi elementi principali perché i micronutrienti ovviamente sono tutti quelli che servono per il nostro benessere che possono essere le vitamine così come i minerali però molto spesso si parla dei macronutrienti e proprio per sfruttare un po il modo di parlare direi scientifichese in cui si mettono degli alimenti degli elementi di scienza che fanno da aggancio rispetto alle persone spesso si parla di alimentazione in modo superficiale proprio per questo motivo perché nel corso del tempo tutti quanti voi avrete visto che a seconda delle mode dei momenti dei periodi e delle aziende che propongono un tipo un modo di mangiare rispetto ad un altro vediamo che per un po di tempo bisogna eliminare tutti quanti i grassi poi all'improvviso bisogna eliminare tutti quanti i carboidrati poi diventa molto importante invece la quota proteica di quello che mangiamo quindi vediamo che ci sono dei prodotti con scritto proteico che magari non hanno nulla di diverso rispetto al prodotto accanto contengono proteine però non è non sono speciali però servono da gancio da marketing e se dovessimo andare a definire se esiste un macronutriente migliore di un altro anche se effettivamente la vita è possibile anche senza l'assunzione di carboidrati in realtà quando abbiamo andiamo a fare una valutazione scientifica cioè facciamo degli studi prospettici o metanalisi sul modo di mangiare delle persone una metanalisi cioè un raccoglimento di tanti studi ci accorgiamo che in realtà la prevenzione delle patologie cronico degenerative non migliora se si elimina del tutto i carboidrati anzi ovviamente ci possono essere dei problemi se c'è un consumo eccessivo di qualunque macronutriente ma questo vale per tutti e tre i macronutrienti e se dovessimo sfatare uno dei grandi falsi miti dell'alimentazione non possiamo fare a meno di nominare la carbofobia in quanto noi sappiamo che spesso quando si parla di la necessità clinica di migliorare la propria composizione corporea oppure la necessità cosmetica estetica di aderire ad un modello estetico che ci viene proposto dai media e per la quale l'industria delle diete ci offre una soluzione perché da una parte media ci dicono i vostri corpi non vanno bene dovete essere tutti aderenti a questo tipo di corpo e dall'altro ovviamente arriva l'industria ad offrirci la soluzione una delle soluzioni più diffuse è quella di eliminare i carboidrati in realtà questa cosa non ha nessun senso dal punto di vista scientifico e anche semplicemente dal punto di vista per fare un po di matematica le calorie un grammo di proteine un grammo di carboidrati abbiamo le stesse calorie è ovvio che ci sono delle vie metaboliche diverse che queste calorie possono essere utilizzate in forme diverse però prendere peso o diminuire di peso e di conseguenza di adipe dipende dall'equilibrio calorico e appunto se andiamo a vedere l'equilibrio energetico noi sappiamo che in teoria per poter mantenere una composizione corporea e anche una forma corporea di conseguenza per mantenerci con una percentuale adiposa ma anche di massa magra che sia coerente con la prevenzione delle patologie cronico degenerative l'equilibrio deve essere tra introito e consumo e parlando di malnutrizione dal punto di vista energetico sappiamo che nel momento in cui l'introito è diverso dal consumo abbiamo una malnutrizione e questa può essere per eccesso o per difetto per cui l'obiettivo è cercare di avere un introito che nel momento in cui dobbiamo migliorare la nostra composizione corporea perché dobbiamo aumentare la percentuale adiposa ovviamente punteremo ad avere un introito maggiore del consumo se invece dobbiamo diminuire punteremo ad avere un introito minore del consumo detta così sembra molto facile in realtà è molto complessa se dovessimo invece fare dei riferimenti qualitativi a quello che una persona deve mangiare o non deve mangiare nel corso degli anni sono state proposte delle immagini che puntano a istruire la popolazione a istruirci su cosa sarebbe opportuno non opportuno mangiare e se noi vediamo la piramide della dieta mediterranea che è un patrimonio dell'unesco che è secondo tutti gli studi parlando di studi e di meta analisi citate prima non è mai stato fatto uno studio una meta analisi che negasse il fatto che la dieta mediterranea è quella che previene maggiormente le patologie cronico degenerative e dobbiamo esserne molto orgogliosi perché come paese del bacino mediterraneo siamo tra i paesi che sono di origine della dieta mediterranea la dieta mediterranea in italia in questo momento purtroppo anche se ne parliamo molto non viene molto seguita infatti vediamo che nella piramide innanzitutto alla base della piramide vediamo alcuni elementi che non fanno parte dell'alimentazione in serso stretto perché abbiamo l'attività fisica la convivialità la stagionalità e il consumo di prodotti locali sono tutti elementi che non sono direttamente collegati con l'aspetto nutrizionale ma che sono importanti e poi alla base vediamo i prodotti di origine vegetale perché la dieta mediterranea è una dieta di fatto plant based in cui si parla molto di dieta vegetariana e di dieta vegana che alcuni possono seguire per motivazioni etiche e che potenzialmente sono diete che non necessariamente portano a malnutrizione ma che anzi possono essere eseguite soprattutto se uno ha una motivazione etica e personale però in realtà se andassimo a vedere la differenza tra la dieta occidentale la dieta degli occidentali e la dieta vegetariana è molto più simile alla dieta mediterranea una dieta vegetariana rispetto a quello che poi mangiano la maggior parte delle persone vedete che salendo nella piramide troviamo il latte con i suoi derivati la frutta guscio poi l'olio extravergine d'oliva ovviamente come grasso e il consumo di carne e di derivati animali e poi alimenti volutuali come i dolci vanno nella zona dedicata al consumo settimanale e se andiamo a vedere altre immagini che sono state utilizzate che forse sono un po più intuitive perché si rifanno la nostra quotidianità vediamo il piatto della salute che è stato studiato dall'università di harvard che punta a istruirci in maniera semplice intuitiva su qual è il modo di mangiare e vediamo subito che più di un quarto del piatto dovrebbe essere dedicato al consumo di vegetali cosa che non sempre succede cioè se un pasto in pranzo una cena in cui noi stiamo mangiando non prevede dal consumo di vegetali noi abbiamo più di un quarto del piatto che teoricamente non è come dovrebbe essere poi il consumo di frutta possibilmente di stagione i cereali possibilmente integrali con le dovute eccezioni ovviamente perché non per tutti può essere la soluzione ideale però potenzialmente lo è e le proteine di qualità quindi evitare anche evitare completamente in alcuni casi non è un problema anche se ovviamente il consumo occasionale ugualmente non è un problema evitare salumi insaccati e carni conservate noi vediamo che purtroppo se siamo costretti a mangiare fuori casa con la soluzione che ci vengono proposte sono quasi sempre panini con affettati se uno è costretto a farlo tutti i giorni rischia di consumare gli affettati due tre quattro cinque volte in realtà è una cosa che andrebbe ridotta e non incentivata o aumentata quindi proteine di qualità semi legumi ma anche carne bianca e pesce cercando di ridurre il consumo di carne rossa e possibilmente evitare il consumo di carni conservate e lavorate e poi l'utilizzo dei grassi buoni quindi l'utilizzo di grassi salutari come l'oro d'oliva l'utilizzo di grassi di origine animale o di grassi trans ma anche vegetale come l'oro di palma sul quale è stato detto tantissimo però forse a volte in maniera anche un po' troppo terroristica però vandrebbe comunque ridotto ovviamente parlando dell'ambito nutrizionale e di quello che andiamo a mangiare di quello che andiamo a consumare nella nostra quotidianità è importante utilizzo questa frase che a me piace molto cioè che tutto va appreso con moderazione anche la moderazione per cui se diventa un atteggiamento ossessivo comunque sia terroristico alla fine potremmo ottenere il risultato opposto spesso nel mio lavoro di medico i pazienti si preoccupano fanno riferimento a quello che poi è un messaggio che deriva dall'industria della dieta cioè gli sgarri io durante la settimana mando bene poi faccio lo sgarro in realtà il concetto stesso di sgarro è sbagliato perché di per sé ogni regola ha l'eccezione e l'eccezione per definizione conferma la regola per cui se noi abbiamo 5 pasti al giorno 3 pasti principali e 2 spuntini abbiamo 30-35 pasti a settimana preoccuparsi di quelle 3-4 eccezioni che facciamo a settimana è inutile possiamo magari fare sì anche se comunque non c'è niente di male nello scendere da soli e prendersi un gelato perché abbiamo voglia di farci una coccola e perché vogliamo mangiare qualcosa che non mangiamo nella quotidianità però se possibile sarebbe bello che questi momenti di eccezione li abbinassimo ai momenti di convivialità cioè i momenti in cui quegli alimenti eccezione li consumiamo con qualcuno a cui vogliamo bene qualcuno con cui vogliamo vivere un'esperienza di convivialità e poi non dimentichiamoci degli altri due pilastri delle altre due gambe dello sgabello quelle che abbiamo detto che senza il sgabello della salute cade e il benessere psicologico che è un aspetto estremamente trascurato e che speriamo che il nostro servizio sanitario nazionale possa valutare e trattare sempre di più una dieta che ci fa stare male dal punto di vista psicologico senza voler parlare in maniera più esplicita di disturbi del comportamento alimentare che sono patologie molto complesse e non è questo il momento e il luogo per parlarne però una dieta che ci fa stare male perché ci rendiamo conto che ci fa pensare continuamente l'alimentazione ci rendiamo conto che impatta su alcuni ambiti della nostra vita che non riguardano specificamente l'alimentazione cioè ci ritroviamo a pensare troppo al cibo forse non sta promuovendo la nostra salute e quindi è importante quando si parla di diete che non si pensi a schemi alimentari dove ci sono solo le componenti nutrizionali ma che i professionisti della salute che intervengono sulle diete o sull'alimentazione comprendano di dover prendersi carico anche degli aspetti psicologici ovviamente avvalendosi della collaborazione di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e per quanto riguarda invece l'aspetto sociale è importante che quando noi ci approcciamo ad un tipo di dieta comprendiamo il fatto che non è possibile trovarsi in una situazione di salute o pensare che uno stile alimentare promuova la nostra salute se ci sta impedendo di partecipare a dei momenti sociali a dei momenti di convivialità anche perché se noi immaginiamo un grafico a torta dove ci sono tanti elementi che compongono la nostra vita tra cui anche l'alimentazione in quel grafico troviamo anche gli amici, i parenti, momenti conviviali se noi leviamo quei momenti ovviamente è più probabile che l'ambito dell'alimentazione si espanda potremmo ritrovarci sorprendentemente a mangiare di più e a mangiare in modo sbagliato per cui sarebbe opportuno quando si fa riferimento alla parola dieta ed è uno dei motivi per cui io quando mi dicono dietologo a volte sto al compo il naso ma col tempo non ci ho fatto pace con questa definizione perché purtroppo nella definizione comune viene spesso considerato come un medico che stampa diete cioè come se fossino delle stampate in realtà anche se volessimo andare a vedere quello che è l'origine etimologica della parola dal greco abitudine, modo di vivere e quindi non è un riferimento a uno stile alimentare ma uno stile di vita nel suo significato originale oggigiorno quando si parla di dieta si parla esclusivamente di alimentazione e per cui come si potrebbe fare per affrontare questo aspetto cercare di considerare prima ancora di sentire la necessità di andare da un professionista che ci fa una dieta il proprio stile di vita nel complesso cioè le diete meno se ne fanno meglio è intese come trattamenti dietoterapici per cui prima ancora di rivolgersi a un professionista potremmo controllare il piatto della salute quello che vi ho mostrato prima e dire consumo abbastanza verdura consumo frutta oppure consumo troppo di qualche alimento per esempio mi accorgo di dire io mangio tutti i giorni un panino con affettati magari posso lavorare su questa cosa movimento faccio attività fisica che non è solo una passeggiata o la camminata veloce ma è un'attività fisica formale in cui io mi muovo e a seconda delle fasce di età vi sono dei livelli che sicuramente sono anche più importanti di quelli che fa la maggior parte della popolazione e l'attività fisica formale cioè uno sport non solo essere attivi nel senso che io mi muovo per andare a piedi a lavoro ma anche proprio fare uno sport dove faccio un'attività fisica contro resistenza dove sollevo pesi dove faccio flessioni faccio piegamenti e ragionare con un atteggiamento più che i terapeuti definirebbero più cognitivo comportamentale ma che noi abbiamo un po' preso in prestito senza avere ovviamente la presunzione di fare psicoterapia però ragionare in casi clinici anche con il paziente su se stessi anche in un percorso con se stessi sull'individuazione di criticità per esempio mi rendo conto che io non faccio attività fisica perché faccio fatica a farla perché non sono portato e perché ho difficoltà ok? cerco di allora passo al punto 2 provare delle soluzioni trovo un amico o un'amica con quelle in armi provo diversi sport finché non ne trovo uno che mi piace quando ho completato il percorso valgo e dico ok adesso io faccio sport e la stessa cosa si può fare con tutti gli altri aspetti del proprio stile di vita per ottenere una modifica del mio stile di vita che non vada ad impattare sulla mia qualità di vita sulla mia salute andando a danneggiare gli altri aspetti della mia salute che non sono semplicemente nutrizionali ma che sono per l'appunto anche psicologici e sociali e vi ringrazio per l'attenzione grazie a te Edoardo soprattutto per questi consigli finali che ci mettono nella condizione di iniziare a interrogarci se per esempio mangiamo abbastanza frutta abbastanza verdura se quella che dovrebbe essere una piacevole eccezione alla settimana invece diventa una cosa quotidiana però ci sollevi anche cancellando la parola sgarro e quindi domenica festa della mamma un bel pranzo in famiglia con una bella torta festeggiare la mamma e noi festeggeremo ovviamente anche con la zalea stanno arrivando tante domande e riflessioni su quello che hai detto aggiungo tu hai detto la dieta è uno stile di vita la salute in generale è uno stile di vita se noi facciamo determinate scelte prima Elena ci ha raccontato dell'importanza di non iniziare a fumare se noi ci sediamo a tavola e siamo conviviali scegliamo guardiamo quello che mettiamo in tavola questo ovviamente nel tempo ci farà stare bene grazie per il momento Edoardo ci sono delle domande per te ma risponderemo dopo la premiazione perché adesso per noi è arrivato il momento di premiare i vincitori del contest e quindi io voglio coinvolgere a questo punto subito Marina Francaviglio Sorrentino e ovviamente se avete ancora domande sia per Edoardo sia per Elena Munarini continuate a mandarle nella chat perché poi avremo il tempo per rispondere ecco adesso vedo comparire Marina Marina siamo arrivati alla premiazione ma prima di lasciarti la parola per la premiazione cosa significa per te questo concorso? potete capire bellissimo che significa tantissimo perché con questo concorso avete fatto in modo che Antonio si è ricordato sempre e il suo contributo ha anche avuto grande valore questa storia di previsioni lui ha messo ha messo come dire tutta la sua fantasia tutta la sua creatività per aiutare il testo grazie moltissimo che è stato e quindi ogni volta che penso a questa vicenda tra triste e il bello e sapere che Antonio è ricordato da voi e dall'AERC mi commuove moltissimo e sono felice di poter parlare con questi ragazzi che hanno partecipato a questo concorso e mi piacerebbe anche capire le motivazioni che l'hanno portati a essere protagonisti e anche bravissimi eh sì perché guardano hanno partecipato in tanti i progetti e le cose che hanno inviato erano tutte molto belle la giuria ha fatto anche un po' di fatica a individuare i vincitori perché veramente c'è stata tanta partecipazione e quindi a questo punto io ti lascio la parola per annunciare la prima vincitrice del perché ovviamente abbiamo le quattro sezioni del contest sulle scuole secondarie di secondo grado allora scopriamo insieme i vincitori la parola a te Marina vediamo la prima categoria la categoria immagine allora la vincitrice è Leonora Brunelli della quarta classe del liceo scientifico a Leardo Leardi di Verona ringrazio anche la docente Erika Diani che sicuramente avrà contribuito a spingere i ragazzi a partecipare io applauso eh ah un applauso complimenti complimenti vivissimi mi piacerebbe sapere cosa è stato per questa ragazza quanti anni a classe quarta quanti anni hanno? 16 16 16 allora ti vedo 16 anni sì mi vede no volevo sapere cosa ti è piaciuto di più di questo gioco e come lo hai interpretato ti vediamo Eleonora ti vediamo ti vediamo tranquilla ma mi sentite? sì sì ci sentiamo anche sì sì sentiamo ok allora un momento adesso non ti vediamo più ma adesso penso che ecco ecco adesso ti vediamo e ti sentiamo allora sì la motivazione l'ispirazione per questo disegno l'ho presa dal dipinto la danza di Matisse e infatti da qui viene anche il titolo la danza dei fumatori inconsapevoli sono inconsapevoli perché loro sono scheletri ma non se ne stanno rendendo conto il fumo li ha ridotti in questa condizione e loro danzano felici senza accordersi che in realtà il fumo appunto li sta lentamente uccidendo che in realtà sono già morti quindi sì è una sorta di metafora mi complimento con te perché questa copiata con Matisse è straordinaria hai visto questi quadri perché sono due questi di Matisse hai visti personalmente personalmente no quindi hai avuto un'ispirazione no comunque sono bellissimi se ti capita di vederli personalmente sono fascinosissimi complimenti davvero grazie adesso passiamo grazie ancora Eleonora adesso diamo la parola ad Antonio così vi alternate nella premiazione Antonio Mistretta a te l'annuncio del vincitore della seconda categoria con grande piacere che dichiaro vincitore della categoria the winner is come si dice nei premi seri per la categoria testo Alessandro Santoro della classe terza B del liceo Pestalozzi di Sansevero Foggia docente professoressa Raffaella De Maria la motivazione del testo che vediamo accanto attivo passivo brucia una sigaretta battiti persi di lancetta è la seguente una prosa ritmica la rima le metafore che si rincorrono il battito il rumore della lancetta dell'orologio ma anche del cuore vivo trasmettono chiaro e forte il messaggio contro il fumo sia attivo sia per chi lo subisce passivamente complimenti Alessandro di qualcosa in base alla tua ispirazione che ti ha portato a buongiorno si con questa frase ho cercato di dare un messaggio semplice ma fondamentale cercando di raggiungere ogni fascia d'età poiché attivamente come scritto nella frase o passivamente essendo figlio di un fumatore o appunto fumando in prima persona il risultato è lo stesso perché come è stato detto anche prima i giovani iniziano per diversi motivi a fumare o cercando di amulare i propri genitori o appunto cercando di essere accettati socialmente quindi questo messaggio voleva appunto arrivare anche i più piccoli con questo piccolo gioco dei battiti versi di l'angetta perché appunto è quello il fine ci possono essere molteplici sfumature ma il risultato è lo stesso ci si rovina la vita accorciando appunto i battiti Alessandro sei bravissimo questo ritmo potrebbe servire per un rap anche mi sembra un ritmo che potresti potresti far condividere con un rap per magari farlo diventare così musicale bravo Alessandro bravissimo è proprio una poesia motivante Antonio allora vediamo di ricollegarci con Marina che si è scollegata abbiamo già però comparsa Siria che è la prossima vincitrice sto aspettando perché ci stiamo alternando un po' con Marina un po' con Antonio che sono diciamo un po' che rappresentano il cuore ovviamente oltre ad essere magna pars per l'AIR che è la mamma del mio amico Antonio che con me ho creato quindi per questo siamo siamo qui noi due allora Marina a te l'annuncio della vincitrice mi è scomparsa Marina oddio scompare di nuovo allora vediamo se riusciamo a vederla eccoci adesso ti vediamo e ci sentiamo Marina eccoci eccoci adesso vai allora la vincitrice della categoria video Siria Angela Menella classe terza sezione immagino liceo Pestalozzi di Sansevero a Foggia e la docente Raffaella di Maria questo cognome mi è quasi familiare parenti di Maria siamo parenti forse con la professoressa sarei felice e la motivazione e le indicazioni sui dati del frumo si inseriscono nel racconto rendendo così più coinvolgente la parte didattica le infografiche ah le infografiche animate la finale del video sia videogioco trasmettono il messaggio in modo efficace e convincente brava dove sei Siria Angela complimenti è vero io sono sono sempre felice di vedere dei giovani quanti anni hai? quanti anni hai? sono sempre felice di vedere dei giovani che si avviano su questa su questa strada quando hai cominciato a disegnare eri piccola? ti esprimevi con il disegno? disegno diciamo che non sono tanto brava però secondo me uno dei modi migliori per esprimere un messaggio è tramite video perché può rendere anche un messaggio che può trasmettere il messaggio a tutte le fasce d'età anche perché ad esempio io per il mio elaborato ho inserito delle nozioni comunque sui danni del fumo e anche ho mostrato a cosa può portare sia sulla propria salute che con i rapporti sociali quindi secondo me mostrandolo in un video era molto efficace il messaggio che volevo portare allora io propongo di vederlo questo video e chiedo alla regia di cliccare sul link così lo guardiamo resta ancora con noi un attimo Siria e poi ti salutiamo se ci riusciamo vediamo eccolo qua però non abbiamo l'audio regia è anche la visione ecco chiede Grazie a tutti. 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 Antonio Mistretta. Grazie a tutti.